Tra i premiati al Millennium Award, primo premio multidisciplinare riservato ai talenti Under 30, c'è un chioggiotto, si tratta di Martino Aprile. Il premio e la sua ottava edizione sabato sera sono stati premiati a Villa Medici 39 giovani provenienti da tutta Italia, ognuno forte dei propri progetti e delle proprie esperienze. Il nostro concittadino è emerso nella categoria dedicata al cinema My Frame, aggiudicandosi il premio speciale Rai Cinema Channel con Sunshine. Il suo corto ha vinto un contratto di acquisto dei diritti web e free tv da parte di Rai Cinema, oltre che la visibilità su raicinemachannel.it, sui siti e partner della Rai e dei canali Rai. Il Millennium Award in questa edizione ha premiato 270 candidature su 4.800 presentate, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Università e dalla Ricerca, oltre che dalla Regione Lazio. Vanta la medaglia di bronzo al Senato, non d'efficienza conferita, iniziative che si distinguono per spirito sociale, educativo e di alta rappresentabilità. Grazie a tutti!